Partiamo dal presupposto che questo video doveva uscire ieri Bella ragazzi e bentornati sul canale, io sono Pinolo1 e questo è Call of Duty Modern Warfare 3 Questo è il terzo episodio e il penultimo delle Spec Ops Poi dopo vi farò vedere le sopravvivenze Credo che farò... Pensavo di fare solo un video della sopravvivenza Però poi ci ho ripensato per un insieme di fattori diciamo Farò più di un video della sopravvivenza Adesso lo posso dire con certezza, aspettatevi in settimana il finale di Ghost Recon finalmente Probabilmente, e dico probabilmente, uscirà domani Insieme al primo episodio di Battlefield 1 Avete capito bene Ovviamente la campagna Oggi facciamo le operazioni speciali di COD Allora, abbiamo da fare queste Questo è molto semplice, è un percorso Come quello, come la primissima operazione speciale che abbiamo fatto Però al contrario è con le cariche Allora, lo facciamo due volte Una volta con le pistole e una volta con i fucili Ovviamente con un fucile a scelta Mia, mia, mia Di tutte le pistole qua La migliore è la 5-7 Perché anche se fa un danno che è ridicolo Ha 15 colpi nel caricatore Quindi è quella che tiene più colpi E qua il danno non è importante Bensì la rapidità Vedete? Cani in arrivo Ma erano cani tutti e tre quelli Ok, aspetta che ricarico Ci sono Sì, padrone Ok, padrone Dovrebbero fare un capitolo di COD ambientato a Wuhan Caga Oh, tre stelle Ce l'abbiamo fatta Ora lo riveggiamo Colpino vanta però Che ha 50 colpi nel caricatore Quindi Non ci sarà bisogno di ricaricare A meno che io non diventi autistico Per qualche motivo Ok Boom E' avanti Fatto Goldello Ma quanto sarebbe bello Un capitolo di COD ambientato nel Vietnam C'è un pochino Ci sono Ci sono un paio di missioni di Black Ops 1 Fatte in Vietnam Però un COD ambientato Nella guerra Totalmente Nella guerra del Vietnam Sarebbe una cosa spettacolare Allora Questa qui E' una delle mie operazioni speciali preferite E' possibile che la dovremmo rifare un po' di volte Perché la mia mira non è eccellente L'ho fatto Ma ormai ho imparato la lezione Allora qui Ci sono Dobbiamo fare il percorso Che abbiamo fatto a Praga con SOP Però da soli Al contrario E ci sono I ribelli tenuti in ostaggio Che li liberiamo e ci seguono Quindi Questa missione Invece che fratelli Verrà chiamata da me Gesù e gli apostoli Nel senso che gli apostoli Sono quelli che vengo a salvare Aspettiamo che questi si avvicinino Un attimo che Ho il tappetino del mouse a puttane Ok Fermo Stai fermo Ok Eh niente male Tre colpi che ne bastava uno Ok vedete Gli apostoli fanno una specie di luce rossa Quando li dobbiamo salvare Ecco un apostolo Contiamo gli apostoli Uno è qui dentro L'altro non si è accorto di niente Ok Apostolo numero due Lui è Tommaso L'altro è Oh fanculo Non me li ricordi Mi basta non raccogliere Giuda Uno Beccato 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 Apostolo numero tre Grazie mille Prego mille Ehm no Allora Alcuni li dovrò andare a cercare in giro Perché Non mi ricordo dove sono tutti esattamente Allora qua Aspettiamo Perché c'è uno che arriva di lì Appena si incrociano Faccio fuoco E li becchiamo con un colpo Presi Allora c'è un apostolo qua dentro No Qui in giro nemmeno Là c'è gente Mi sono sentito male per il cane Che si è preso un colpo 7.62 Nato su per il culo Oddio Dovrebbe essere un 7.62 Questo fucile Come il Mark 11 Non lo so Ma non credo che sia un 5.56 Difficile che un 5.56 One shot Ok Apostolo numero 5 Mi pare O 4 Non me lo ricordo più Fanculo il conto degli apostoli No vediamo Radunatevi Greggie Ok Quattro apostoli Sono un greggie loro Ok Entriamo in un'area ristretta Quindi Qui dietro c'è un apostolo No Occhio a quello che facciamo Occhio al rumore che facciamo E occhio a come killiamo Perché c'è un po' di gente Apostoli in vista Non mi pare Due idioti Fermo Ok Cioè l'ho colpito L'ho colpito qui Però si teneva la gola Qui Ah no è una stufa Non è un apostolo È che ho visto il rosso Altra stufa Quindi apostolo falso Beccato Nessun apostolo in vista Ok Credo che lo metterò nel titolo Questa cosa degli apostoli No Non sparare Non sparare Idiota Questo così Fermo Tranquillo Ok Signori apostoli Scusate Allora qua ne sbuca uno da lì Ok Occhio che c'è gente che corre Li abbattiamo subito Se non sono già passati No Beccati con un colpo Fermo C'è un apostolo laggiù Che lo stanno portando Probabilmente per infilargli un macete Nella prostata Mi si allontana il microfono dalla bocca Fermo Fermo Caga Ecco Allora Questa è un'area un po' grande Quindi occhio a non lasciare indietro Apostoli oltre a lui C'è lui E poi Non lo so In teoria dovrebbero essere loro Oh no Ce n'è uno anche là Qua Amico mio Apostolo sperduto Questo non Ho visto il rosso adesso Ma non l'ho mai preso su Vedete L'avevo appena detto Occhio a non mancarli A quanti apostoli siamo Gregge venite qui Ne conto Sei Sì Se If the matematica Is not an opinion Quelli sono sei Allora Con calma Qua c'è un po' di gente Ci sono due idioti là Che sono in fila Un apostolo lì Che vedo il colore Almeno in teoria dovrebbe essere un apostolo Ok Poi c'è gente là Raccogliamo prima l'apostolo Che se c'è qualcuno qui Non mi pare Ok Oh Mi sono fatto un po' di seguaci Guarda che carini Tutti spaventati Caga Altri apostoli Non mi pare Qui dietro Non ne tenevano nessuno Qui dentro Affanculo Si andava qui Ok Sette apostoli Ho raccolto sette apostoli Vedete Torniamo alle operazioni speciali Allora Queste due operazioni Le ultime due Si fanno Sul terreno Della stessa missione Solo che qui Rimani solo in quest'area qua Qua Inizi in quell'area lì E vai da un'altra parte Quindi io Inizierei da questa E fare Ah no Era scorta la resistenza Fratelli Era l'altra Ho sbagliato il nome della missione All'inizio di questa missione qui Facciamo prima questa Qui abbiamo una tuta juggernaut E un UAV Che poi Lo chiamiamo UAV In italiano Però suona meglio La sigla in inglese Cioè volete mettere UAV contro APR Molto meglio in inglese APR suona meglio Si minchia Il lag Vedate c'è uno stronzo Che si muove laggiù Un altro stronzo Che spara Beccato Vedate Coronavirus Lontano da me Caga Caga Ho detto caga Ecco Si ho capito Ma questi mi aggrediscono Che non ho neanche messo il naso fuori Guardate Capisco di essere in vantaggio Perché sono praticamente indistruttibile Però Non metto ovviamente in dubbio Che un juggernaut nemico Sia molto più indistruttibile di me E' una E' una legge fisica quella Però Almeno sapete Ho una tuta Caga Ok si No non posso sdraiarmi Accovacce di almeno Ok Esplosivi segnalati Stronzi in giro Si Allahu akbar Mi sa che ne ho falciati un po' Bella l'L86 Secondo me non è bruttissima esteticamente Magari dite la vostra nei commenti Se quest'arma vi piace Esteticamente Secondo me non è bruttina Si arrivo Mi sparano Scusi Beccato Altri? Certo Beccato Headshot Mancato Per un pelo Cristo Perché non va avanti Voi vedete quanto posso essere ritardato Intanto Ritardato e miracolato allo stesso tempo Si Minchia Non capisco più dove sono Non trovo i tasti Altri stronzi in giro Si Mille Mille punti in una botta Ye Ok Munizioni Che fanno sempre comodo Anche se non ne avrei bisogno In teoria Oh cazzo Un carro armato Datemi il predator Merda Ehm Mo? Cioè Il carro armato spara E cioè Mi serve il predator Dove minchia è? Oh Trovato Bene Ehm Ah ecco Oh Sento cani Lasciatemi disinnescare questo E sono tutto vostro Scappa Mi ha visto e scappa Ok Cioè Avete visto Il cane mi ha visto e scappato Adesso è tornato Ah Ci hai provato Bello Ah no era E' il suo amico che è scappato Adesso sta tornando Che cazzo è? Lo sentivo Scusi Eh No 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 Madonna Mi hanno già cerchiato Sì Sì è Resisti ai danni Ok Che minchia è? Coglione Preso Preso Mancato Preso Ok Preso Altri Altri Ah è qui Ok Un altro me ne manca Sì c'era un elicottero Eh sì Vabbè Ma che Oh bello Mi son fatto male da solo Sì Io vedo l'elicottero Che non mi piace Ecco Se l'elicottero Non mi cade addosso È meglio Corri Corri Ok Aspettate che Mi infilo qui Ah no vabbè Non me lo do più il predetto Ah ok Finita Pensavo di dover Tornare anche indietro Oh Nuovo record Che bello Ok Facciamo l'ultima Vedete questo video È durato poco alla fine Ho parlato eh Ricordatevi che Ho parlato Questo video Doveva uscire ieri Ma il mio pc Ha detto No E allora Niente Esce oggi Non faceva registrare Ma perché Cioè Io voglio un m4 È così difficile Darmi un m4 È che adesso Ho appena usato L'l86 Non sono abituato Allo scar Eh Vi vedo Fate con comodo Mi sposto in avanti Allora Signore elicottero Capisco coprirmi Però Rubarmi bersagli Anche no Ecco Questo me lo potevi Tranquillamente rubare È che non mi offendevo Ok Altri Certo Uno l'ho anche beccato E' ancora vivo Dov'è finito? Dov'è bugo? Oh eccolo bugo Vabbè ma allora Siete degli stroci Vabbè Chi altro c'è qua? Gente che spawna? Che mi è arrivata dietro Chi se ne frega Andiamo Adesso salvo Salvo a bordo Adesso salvo a bordo Beccato Beccato Guardate Vediamo Ah no Non li ho beccati Aspetta Là Se c'è qualcuno Che ha voglia Di una granata Ecco Ho capito Falcio il giro Cambio posizione Li vedo Ci hai provato Oh La G18 Che non ve l'ho mai portata Credo Credo Non in Mv3 forse Non lo so Non mi ricordo Magari ve l'ho fatta vedere Però usiamola Finchè possiamo Non potremo Per tantissimo Allora Devo andare giù Oh Che bello Fumogeni Andiamo via Che se no Direi che li aspetto Al varco Che è più furbo C'è più gente qua Che là Però non li vedo così Ho un visore Ho un visore Siete fregati Beccato Beccato Altri Beccato Ce n'è ancora? Vedate che torno su un attimo Via il visore Andiamoci di scar Dove sono? Uno è là Uno è lì Boom Uno là Oh Cristo Granata Trova la valigetta C'è gente che mi spara Un attimo Con la valigetta Ce ne sono tre lì Dammi un secondo Caga Dove è andato? Era qui Ah ok E' qua No non è vero Stanno arrivando Eccolo Eri sparito Amico mio Ho premuto No Vai via Vai via Mi è sbucato il tipo Dal lato Da bovino A lato Non so se anche voi Vedete qualche Poop di bovino A lato Ve lo consiglio Alcuni video Li ho fatti Veramente bene Mi è sbucato il tipo Mi è sbucato il povino A lato Ok Bomba innescata Il problema è che esplode Quindi dobbiamo levarci Un attimo Dai coglioni Sì Però Non è che potete Sempre Scassare le palle All'infinito Cioè Vedrete quante volte Nella sopravvivenza Ragazzi Modalità sopravvivenza Vedrete quante volte Userò il coltello Troppo Sali Vabbè Era potente La bomba Che abbiamo innescato Bene Siamo arrivati A 20 minuti Credevo di più Va bene Così È un video anche rapido Da caricare Va bene Quante volte ho detto Va bene Comunque per questo video È tutto La prossima volta Vedrete veramente Le anime del magombo Che partono Perché Guardate cosa dobbiamo fare Questo Che non lo possiamo fare Abbiamo questo qui Che È C'è Una cosa Sclerotica A livelli impossibili Poi questa Questa qui è carina Questa è carina È tipo il clone Di È tipo il clone Di questa qua Però con la droga E Questa qui L'ho fatta Solo una volta E Anche se non mi ricordo bene Com'è andata Ci deve essere un motivo Se l'ho fatta solo una volta Direi che ci vediamo Al prossimo video Ragazzi Ciao Spero che Questo canale vi piaccia Questa serie vi piaccia Che io vi piaccia Magari anche per i gay Sono come il miele Che ne so Anche se io sono etero Quindi Costituirebbe un problema Ci vediamo al prossimo video Che è meglio Dai Prima di creare ulteriori danni cerebrali Che vediamo al prossimo video